La grande sconfitta di questa tornata elettorale è certamente la sinistra. Un voto senza appello sia per il PD, dove finisce il renzismo, sia per i partiti a sinistra dei democratici spazzati via dalla marea 5 stelle. Corsa 2 era stata annunciata e Corsa 2 è stata tra i grillini e il centrodestra e così continuerà ad essere rispetto all'incarico di formare un governo che apra la terza repubblica. Il trend abruzzese aggancia la regione a quelle del sud in uno stivale tripartito. Mezzogiorno ai 5 stelle, centro al PD, settentrione al centrodestra con prevalenza della Lega di Salvini. Tra le fila del Partito Democratico si legge ancora lo shock per quanto accaduto domenica scorsa, ma emerge anche la voglia di cercare di ricostruire un consenso che è stato dilapidato, passato dal 40% delle europee a meno del 20% odierno. Non nascondo che avrei scambiato volentieri la mia elezione con un risultato migliore del PD e della coalizione, risultato negativo di cui mi rammarico tanto. Però ovviamente sono felice, felicissima di poter proseguire il mio lavoro alla Camera dei Deputati. Negli anni a venire dovremmo impegnarci molto sulla coalizione perché appunto era stato sottovalutato e poi è stato ovviamente deleterio il passaggio della scissione. Io credo che la priorità delle priorità è la cura del nostro territorio da frane smottamenti, dal dissesto delle strade. Ci vuole un piano straordinario? Proporrò emendamenti, norme in questo senso che vanno a prendere risorse dal bilancio dello Stato per varare un piano straordinario. Spero che un governo per esempio a trazione leghista non si opponga. Nel centrodestra nazionale e anche in quello regionale si guarda il bicchiere mezzo pieno, anche se il risultato nel complesso buono della coalizione è stato tenuto in piedi soprattutto dall'avanzata leghista, in crescita anche al sud e anche in Abruzzo. Il centrodestra rispetto al 2013 cresce di 7 punti percentuali, quindi vuol dire che la proposta di centrodestra è una proposta ancora valida, che gli elettori vogliono, tant'è che rendono il centrodestra la prima forza in Italia, ma chiaramente non possiamo dimenticare gli errori che abbiamo commesso, le cose che non sono andate, perché di qui a qualche mese saremo impegnati nella campagna per l'elezione del nuovo presidente della giunta regionale e lì ovviamente non possiamo sbagliare. Un appello lo rivolgo a tutti i parlamentari eletti. Bisogna capire che questa regione ha bisogno di un'iniezione di speranza, ma soprattutto di un sostegno per ripartire realmente. Ripartire significa far tornare l'Abruzzo ad essere la prima regione del mezzogiorno.